Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. In direzione Roma, code per lavori in uscita a Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto e Firenze Peritola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Fipili per lavori, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori, via di Cocco chiusa nel tratto da via di Brozzi a via Pistoiese. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!